Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Vittoria volti a contrastare i reati predatori con particolare attenzione ai furti di energie elettriche e rame. Quello dell'allaccio abusivo alla corrente elettrica comunale è un fenomeno tanto diffuso quanto ormai ben noto alle forze dell'ordine, ovvero cavi elettrici che dall'interno dell'abitazione, bypassando il contatore elettrico, giungono all'esterno e precisamente alla corrente elettrica comunale. Un reato che, oltre alla pericolosità per via dei collegamenti aerei e artigianali, permette risparmi illegali sul costo della corrente. In totale, durante gli ultimi controlli dei carabinieri a Scoglitti, sono tre le persone arrestate in flagranza perché sorprese a rubare corrente comunale. Tutti albanesi, una coppia di coniugi pregiudicati, Daniel Ceno di 44 anni e la moglie, Elde Miranda, di 35 anni, infine un bracciante agricolo di 30 anni, sempre di Scoglitti. In particolare, i militari dell'arma, a seguito di mirati controlli congiunti con il personale dell'Enel, hanno accertato all'interno delle abitazioni degli arrestati la manomissione dei contatori di energia elettrica al fine di eludere il reale consumo. Il danno erariale complessivo stimato ammonterebbe a 4.500 euro circa. I arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Ragusa. A Comiso, invece, i carabinieri hanno deferito un stato di libertà per il reato di ricettazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale Jacopo Verzeloni, di 39 anni, poiché sorpreso dei militari in compagnia di un altro pregiudicato. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti all'interno della sua abitazione 60 kg di cavi di rame, probabilmente rubati. Grazie a tutti.